Di questo passo saremo al mio villaggio per mezzogiorno. Che farai quando saremo lì? Dopo che ti avrò tolto la fascia. A parte spezzarmi il collo intendo. Credo che tornerò. Tornerai dove? Che importa? Dove posso trovare cibo e carburante? Io di solito non mi fermo mai. Beh, tu potresti anche restare. Se lo vuoi. Intendo dire quando mio padre saprà quel che hai fatto per me sono certa che ti offrirà una casa. Se è quello che vuoi. Non ci credo ce l'abbiamo fatta. Fermati. Fermati, fermati, ci siamo. Non possiamo proseguire in moto, attiveremo i sistemi difensivi. Mio padre non ama molto gli stranieri, quindi quando saremo arrivati lascia parlare solo lui, va bene? Ok. Che strano. Cosa? Perché i cancelli hanno le armi attive? E ora come entriamo? Raggiungiamo il posto di guardia. Ci serve solo una radio e ci faranno entrare. C'è qualcosa che non ti quaglia neanche a te, vero Monkey? Qua c'è qualcosa che non quaglia. Però, andiamo avanti, eh. Che strano. Mark non c'è. Dovrebbe far funzionare il ponte. Ehi, là. Mark! Mark! C'è nessuno? Monkey, i comandi del ponte sono lassù. Va bene, trovo un modo per passare. Oh, ma Mark è a bersi il caffè e chi deve farsi la faticaccia? Noi. Oh, ma... Oh... Ottimo! Ora abbassa il ponte. Va bene, vieni, Tripolina! Bene, muoviamoci. Andiamo, eh. è bello essere a casa non mi riprende sto fan cazzista tira la leva vieniamo un po' adesso la tiro io faccio riscendere il ponte faccio venire qua tripponina e ritiro sul ponte aspetta un attimo questo potenziamento e poi andiamo che strano non c'è nessuno nemmeno qui già capito vai ma ti prevengo tripponina ehi tutto a posto si è ancora bene che diavolo è successo non lo so dovrebbe essere impossibile deve essere stato danneggiato fai un po' di manutenzione no eh ragazzi va bu siamo e mo cos'è sta roba allora vediamo un po' di capirci qualcosa ecco la torre di guardia altri ponti ce n'era davvero bisogno parlane più tardi con mark dice che sono il sistema perfetto per tenere alla larga i robot perché solo un cervello umano può capire come funzionano secondo noi è solo che gli piacciono i ponti optere anch'io per la seconda adesso qua tu vai per fare diventare matti giocatori vai pure adesso cominciamo ad andare avanti lei va poi tripponina amica mia tira qua ok tira la ok tira la ok tira la tiro io e quello dobbiamo scendere perfetto ora lei dico attrito di andare di là forse se sguardo qualcosa non mi interessa riabbasso il coso ok ora lei dico lei di camminare ok attraversa sperando che là ci sia una lea perché se no siamo fregati tira la leva perfetto adesso devo fare esattamente la stessa cosa no momento ah si si stavo facendo così allora adesso la tiro io e ritiro e ritiro sul ponte rifaccio passare puoi andare adesso puoi andare adesso puoi andare puoi andare adesso puoi andare mi abbassa il ponte ok io passo rialzo il ponte e dove è il ponte va su il ponte va giù secondo Mark è una cosa ipnotica trip si basta parlare di Mark e di ponti terutibale veramente tu usa e sto Mark appena vedo la coppo io ok eccoci non c'è nessuno è impossibile c'è sempre qualcuno di vedetta e per terra c'è del suquip modoro sembrerebbe no mi sa che non è suquip modoro rispondete base qui il posto di guardia 9 mi ricevete passo base rispondete qui continua a non quadrare qualcosa ma che succede? che succede? trip no 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 trip trip do caspita vai oh oh ecca qua cosa non quadrare ora quadra tutto no trip no ferma aspetto no e vabbè e guarda il caso guarda il caso sono stati fuori stati fuori robot ma che guarda il caso devo trovarla prima che si faccia male si perché ovviamente vabbè vabbè tutto da rima che purtroppo se le ischia si facciamo anche noi la cosa la cosa non è così non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è che 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 Amici, amici! Bello, le dimozioni! Vai, mamma mia! F***, dove ho visto sto famoso? Guardate ragazzi, ma non è cattiveria, ma ci avrei una leggerissima fretta di andare a trovare quella disgraziata. Andiamo con l'eliminazione! No, non abbiamo rotti tutti! Ancora! No! Vabbè! Ho già capito! Devo far fuori questo! No! 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 Perfetto, dai, andiamo a questa belletta torre, andiamo a raggiungere il Polina, purtroppo qua è successo un casotto, ma anche perchè corri così poco, dai! la torre di guardia, altri robo di piramide, non ci voleva! Cosa? Cosa? Così? Cosa? Pazzata! E' un po' un po' un po' un po' un cappello un cappello un cappello blanco posso romperli con un piano che cavolo siete 3 arrivo ma di ma ma maledizione il robot sono dappertutto fuori questo qui è tutto ti lascio chiamare i rinforzi maledetto ho capito tutti i morti però non puoi scapparmi via così ci saranno anche sopravvissuto d'accordo d'accordo trip ci sono quasi chi è colo qua no no oh Ok signori, prima di raggiungere Trip dall'altra parte, direi che di interrompere l'appuntamento qui. Del vostro episode è tutto, bye bye! Grazie a tutti!